Consigliere Testa, è arrivato questo pronunciamento del Consiglio di Stato per quanto riguarda il sito inquinato Montecatini di Piano d'Orta di Bolognano, a questo punto che cosa accadrà? A questo punto speriamo che la proprietà, così come ha ribadito anche il Consiglio di Stato, dopo il Tar, dopo lettere inviate alla proprietà da parte del Sindaco, ma così come si è espresso già il Ministero dell'Ambiente, produca un progetto serio e realizzabile entro 30 giorni per demolire e per smaltire i rifiuti pericolosi. Noi vogliamo comunque anche comprendere il perché si debba arrivare a scomodare la magistratura, quando c'era un governo cittadino, un governo provinciale, un governo regionale, targati tutti centrosinistra, che non hanno fatto un bel niente nel merito, non si sono impegnati, non hanno accertato le cause, quindi c'è stata una negligenza totale, mentre, e lo dico senza essere smentito, che l'amministrazione comunale, così come l'amministrazione regionale, hanno lavorato gomito a gomito, non soltanto per quanto riguarda le problematiche di piano d'orta, ma la stessa cosa è avvenuta per le discariche 2A e 2B di bussi. Il Consiglio di Stato ha riportato la parola fine, la parola realtà e verità su questa vicenda, quindi io mi auguro che la proprietà degli immobili, cioè la Moligen, ottembre immediatamente a emanare un progetto di demolizione che permetterà appunto di far sì che la Edison speditamente proceda a questa bonifica. Voglio capire come mai in quei siti i vecchi amministratori addirittura avevano indicato quei siti edificabili, quindi sarà un'altra segnalazione all'autorità giudiziaria per capire cosa c'è stato dietro, che nessuno dopo 20 anni, pur sapendo che erano dei siti inquinati, addirittura permettevano di far sì che c'era uno sviluppo residenziale.